Nella splendida location di casa mia sono qui a dare dei consigli e su questo sito Artjob, su questo blog voglio andarmi a darvi la possibilità di trovare consigli che sia un posto dove i giocatori possono trovare qualcosa che li possa rendere migliori senza niente di preconfezionato, senza allenatori che stanno a autocelebrarsi o cose di questo tipo. Il consiglio che vi do oggi, siamo in giugno, è lavorate quest'estate, non accontentatevi di quello che avete fatto questa stagione ma lavorate sodo, cercate su internet un programma di tiro che magari più avanti potremo mettere anche su Artjob, cercate di lavorare molto su questo, sul vostro tiro, sul vostro pareggere, perché è una cosa che potete allenare in modo facile, non c'è bisogno di correzione, c'è bisogno che fate tanti tiri tutti i giorni, penso che già 100 tiri ogni giorno potrebbe essere un buon obiettivo, un obiettivo sostenibile che però potrebbe far arrivare a settembre, all'inizio della stagione, già con un valore raggiunto rispetto ai vostri compagni e ai vostri avversari. L'altro consiglio che vi do per quest'estate è giocate il più possibile il playground, sfidate persone diverse, non giocate sempre con queste persone ma cercate posti, tornei dove potete esprimervi, dove anche potete provare le vostre cose senza avere un allenatore che vi dice cosa dovete fare, ma doveste lì, dove dovete sentire la sfia, doveste lì per dare il massimo. L'altro consiglio che vi do è, nelle partitelle che farete quest'estate, non affrontatele in modo soft ma cercate di viverle in modo autonomo, dandovi degli obiettivi, cercando di fare cose che non vi vengono naturali e quindi che vi possono permettere di migliorare e quindi di incrementare il vostro gioco. Ciao ragazzi, alla prossima, buon large job a tutti!